Presidente Rozzi è tornato in panchina dopo tanti mesi l'asco di tornata Porco diavolo che ha sofferto con un matto E' da morire, è da morire proprio porco E' vero che anche oggi avevi i calzini rossi Comunque ne la faccio più Si soffre troppo E' da morire questo Potere carismatico di Rozzi a parte E' una domenica davvero favorevole all'ascoli Che infila di slancio il corridoio salvezza L'Inter invece ribadisce il suo momento difficile Soprattutto in trasferta E si fa ganciare dal Torino al quinto posto della classifica Con nuovi rischi UEFA I nerazzurri però sono arrabbiati E tra pattoni e di poche, laconiche parole Ed è abile nelle serpentine quanto negli stacchi aerei E anche nel ritrovare la strada della rete In acrobazia, come state ammirando 2-0 al quattordicesimo E il sigillo dell'1-2 può arrivare solo dal destraccio di quel Riccardo Ferri Che almeno lui A segnare pare aver preso gusto Riecco la prudezza dal basso Riecco la prudezza dal basso